E' scontro istituzionale tra Ater e Comune, a scatenarlo è la questione degli alloggi di via Veneto con il sindaco Piendibene che ha chiesto all'azienda di ritirare il bando per assegnare gli appartamenti. Si va verso la soluzione per il giallo delle targhe prova, la proroga al 30 novembre è stata praticamente assicurata ma solo ed esclusivamente per un singolo porto del centro Italia, quello di Livorno. Civitavecchia è una delle città a minore incidenza di cittadini stranieri e quanto emerge dai dati diffusi dall'Istituto Nazionale di Statistica con la presenza di stranieri nettamente inferiore ad altre realtà. Visita al carcere di Civitavecchia di Abubakar Sumaurò, il deputato di AWS passato al gruppo misto ha lamentato le condizioni di sovraffollamento del penitenziario con un video sui social. La terza edizione del Memorial Antonio Mammoli è la celebrazione dei 20 anni dalla sua fondazione, momento speciale per l'atletico che sta organizzando un doppio evento per il 12 settembre. Buonasera e bentrovati dal TRC Giornale. Si profila uno scontro istituzionale tra Ater e Comune. A scatenarlo è stata la questione degli alloggi di Via Veneto con il sindaco Marco Piendibene che ha ufficialmente chiesto all'azienda territoriale di ritirare il bando per assegnare tutti gli appartamenti e non soltanto una quota, gli aventi diritto iscritti nelle liste. Ma sullo sfondo ci sono anche il cantiere di Via 16 Settembre e anche altre questioni. Come sentiamo nel nostro servizio? Via Veneto e i nuovi alloggi da assegnare alla fine hanno fatto litigare l'Ater e il Comune. I rapporti tra i due enti si sono decisamente deteriorati nelle ultime ore. Ieri il sindaco Marco Piendibene ha inviato una lettera al commissario dell'azienda Massimiliano Fasoli chiedendogli espressamente di ritirare in autotutela il bando per l'assegnazione degli alloggi, contestando la quota riservata ai rappresentanti delle forze dell'ordine. Il commissario straordinario dell'Ater, del comprensario di Civitavecchia, ha risposto spiegando attraverso un comunicato che una parte del piano di zona 4 sarà comunque destinata all'edilizia sovvenzionata, nell'ottica della massima integrazione sociale. Fasoli ha però affermato di essere aperto anche ad un confronto con l'amministrazione comunale, che anzi ha auspica, per affrontare anche altre tematiche, quali il cantiere di Via 16 Settembre, in merito al quale ha richiamato gli impegni presi da Palazzo del Pincio per agevolare i lavori e consentire a 30 famiglie di rientrare nei propri alloggi. Ma proprio da Palazzo del Pincio è giunta un'altra risposta, nella quale si specifica che il cantiere di Via 16 Settembre è fermo non per ritardi del Comune, ma per un ricorso pendente al TAR. Soprattutto però si fa riferimento a debiti accumulati da Ater nei confronti del Comune pari a 12 milioni di euro. Il rischio di dover assistere a un tiro in molla, a questo punto, se non a un vero e proprio contenzioso, si fa particolarmente alto. Apprendiamo con un certo stupore che secondo l'assessore al bilancio Florinda Tuoro l'attuale amministrazione sarebbe costretta all'aumento dell'addizionale IRPEF alla massima aliquota consentita per presunte scelte effettuate dalla precedente amministrazione. Ad affermarlo è Fratelli d'Italia che si dice fermamente contraria all'incremento dell'aliquota. La precedente amministrazione, spiegano dal Circolo Almirante, ha approvato la nota di aggiornamento sul DUP per il triennio 2024-2026, unicamente nella denegata ipotesi di mancata sottoscrizione di un nuovo accordo con Enel. Ciò fa desumere che non ci sia intenzione di stipulare questo accordo, anche perché la componente 5 stelle presente nell'amministrazione è la stessa che annullò 300 milioni di investimenti sull'eolico di Enel. Ci batteremo perché ciò non accada, Enel deve continuare a versare il contributo per la maggiorazione IMU. Si avvia verso una soluzione il cosiddetto giallo delle targhe prova, ovvero la proroga al 30 novembre della vecchia normativa che concedeva agli operatori del settore di avere un'autorizzazione per ciascun dipendente addetto alla movimentazione di autoveicoli nuovi. La proroga è stata assicurata ma solo ed esclusivamente a un porto, quello di Livorno. Vediamo. Svelato almeno così sembra il giallo della proroga delle vecchie targhe prova al 30 novembre. Il problema è risolto ma solamente per quanto riguarda il porto di Livorno, mentre per le altre realtà dove l'automotive ha altrettanta importanza è tutto rimasto come prima, ovvero che sarebbe valida la nuova normativa che concede una targa prova ogni cinque dipendenti e non più per ciascun addetto. La rivelazione arriva dal deputato del PD Marco Simiani e dal collega di partito Francesco Gazzetti, consigliere regionale e responsabile infrastrutture per i DEM della Toscana. In una intervista entrambi fanno i complimenti al sindaco di Livorno Luca Salvetti che assieme al prefetto Giancarlo Dionisi ha saputo creare le condizioni per arrivare, assieme all'autorità portuale livornese, alla soluzione del problema attraverso un confronto continuo con la motorizzazione e il Ministero. Quindi al momento la proroga al 30 novembre della vecchia normativa riguarda solo ed esclusivamente lo scalo marittimo livornese. Ci sono però speranze affinché entro breve tempo il problema sia risolto a livello nazionale. A spiegarlo sono gli stessi esponenti del PD toscano. Dopo aver rivelato di aver presentato un ordine del giorno approvato all'unanimità dall'Aula di Montecitorio nel quale si impegna il governo a risolvere la questione, Simiani e Gazzetti annunciano che i DEM continueranno a incalzare la Presidente del Consiglio Meloni e il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Salvini affinché provvedano in via definitiva al superamento del cortocircuito normativo legato alle targhe prova. I due annunciano che il loro partito non mollerà di un centimetro fino a quando il problema non sarà risolto sia per Livorno che per gli altri scali italiani. In occasione dell'ottantunesimo anniversario del secondo bombardamento anglo-americano su Civitavecchia TRC ricorda l'evento con una serata speciale di album di Silvio Serangeli. Dopo il telegiornale riproporremo due puntate della fortunata trasmissione del nostro compianto direttore che contengono preziose testimonianze di sopravvissuti e di Anna Maria Nocchia con cittadina recentemente scomparsa mentre legge brani di suo marito Annibale Fioretti. Civitavecchia è una delle città con minore incidenza di cittadini stranieri. È quanto emerge dai dati aggiornati alla fine del 2023 diffusi dall'Istituto Nazionale di Statistica. Contrariamente a quelle che sono sensazioni prevalenti, la presenza di cittadini forestieri in città è nettamente inferiore a quella che si riscontra a livello regionale e nazionale. Sentiamo. Ci sono a volte situazioni che sembrano essere in un certo modo e invece tali non sono. Ci riferiamo in questo caso alla presenza di stranieri che a Civitavecchia sembra essere consistente e considerata l'alta presenza di cittadini romeni. In realtà andando a vedere l'annuale aggiornamento condotto dall'Istituto Nazionale di Statistica su scala nazionale, Civitavecchia risulta essere una delle realtà con minore presenza di residenti provenienti da un paese estero. Alla fine del 2023 gli stranieri residenti in città erano 2.962, pari al 5,7% della popolazione complessiva. Nelle altre realtà del Lazio la percentuale di cittadini stranieri residenti è praticamente il doppio, visto che è all'11,1%. Indicativi a riguardo anche i dati relativi alle nascite. Di tutti i 268 nati nel 2023 a Civitavecchia, soltanto 20 erano figli di cittadini stranieri con una percentuale del 7,1%. Nel Lazio la percentuale di bambini nati da coppie non italiane lo scorso anno è stata addirittura del 16%, interessanti anche i dati relativi al fenomeno migratorio, sia in entrata che in uscita. Lo scorso anno il saldo migratorio ha fatto registrare infatti un più 69, quindi tra gli stranieri arrivati in città e i civitavecchiesi trasferitisi altrove per motivi di studio o di lavoro c'è stata una differenza pari a 69 unità, un numero assolutamente marginale. Molto indicativo a riguardo è il tasso migratorio, che però risulta aggiornato alla fine del 2021. Ebbene, al 31 dicembre di tre anni fa Civitavecchia aveva un tasso migratorio dell'1,3% contro il 5,9% del tasso a livello nazionale. Insomma, come dicevamo in premessa, la sensazione che vi fosse in città una consistente presenza di cittadini stranieri è assolutamente sbagliata. Lo dicono i numeri che, a differenza delle persone, non mentono mai. Visita al carcere di Civitavecchia di Abubakar Sumaurò, il deputato eletto dalle file di alleanza verdi-sinistra e poi passato al gruppo misto dopo la controversa vicenda giudiziaria legata alla cooperativa di moglie e suocera. All'uscita ha lamentato le condizioni di sovraffollamento del penitenziario dove ha incontrato la cantante Maliana Rocchia Traoré, detenuta in Italia su un mandato internazionale. Ma sentiamo le parole dell'onorevole Sumaurò. Ho appena finito un'altra visita ispettiva nel carcere di Civitavecchia che vedete lì in alto alle mie spalle. Ho potuto incontrare la cantante Maliana Rocchia Traoré, attualmente detenuta anche lei in questo istituto, nel reparto femminile che ospita attualmente 43 detenute per 30 posti regolamentari disponibili. In generale in questo istituto attualmente ci sono 542 detenuti per 356 posti e quindi il sovraffollamento è evidente. In alcune sessioni ci sono tre doci comuni, si fa la fila per potersi lavare, manca l'acqua calda in questo caso, quindi le sessioni 62 detenuti per tre doci comuni. Tutto questo che si somma alla carenza di personale penitenziario e amministrativo, basta con le iniziative sport del governo. Domenica ricadrà l'anniversario della scomparsa di Massimo Pelosi, primo segretario del PRC di Civitavecchia. Le compagne e i compagni e gli amici si danno l'appuntamento al vecchio cimitero alle ore 10 per ricordarlo con affetto, affermano dal partito. Ancora un evento speciale per Vanessa Di Tecco. Dopo aver partecipato come massaggiatrice un anno e mezzo fa per il Festival di Sanremo, la professionista Civitavecchese è stata scelta per vivere un'esperienza speciale alla mostra del cinema di Venezia. Di Tecco farà parte dei massaggiatori che parteciperanno al salotto delle celebrità, un talk show live che vanta un importante seguito. Obiettivo della Civitavecchese sarà quello di regalare relax e comfort ad attori, artisti, VIP e ospiti del salotto nel corso della mostra. Inoltre il 28 e il 29 settembre Di Tecco parteciperà all'Italian Massage Championship, una competizione a livello nazionale che vedrà la presenza anche di giudici affermati al di fuori dei nostri confini. Electric continua a raggiungere traguardi sempre più importanti. L'ormai noto artista Civitavecchese, che si è fatto un nome soprattutto con i suoi ultimi due album musicali, si è aperto anche strade importanti nel settore della recitazione. Infatti Simone Pezzotti, questo è il suo vero nome, ha preso parte al film della produzione italo-statunitense The Last Night, opera thriller nel quale avrà il luolo dell'antagonista che andrà a disturbare in una giornata tranquilla in campagna una coppia e dove sarà al fianco di Thomas Semeraro che ha recitato in passato al fianco di Carlo Verdone, Riccardo Scamarcio e Angelica Santoro sotto la direzione di Carlo Fusco. L'opera uscirà alla fine del 2024 su Amazon Prime Video e sarà un'ulteriore vetrina per l'artista conosciuto anche come il Diavolo Elettrico. Le riprese sono in corso di svolgimento tra Ardea ed Anzio. Successo per la decima edizione del Memorial Angeli della Buca di Nerone, dedicato quest'anno in particolare al compianto presidente Claudio Monti, sempre a favore della fondazione Teleton, coordinata nel territorio da moltissimi anni da Anna Battaglini. Questa è l'occasione per ringraziare il dottor Marco Biaggini, neopresidente, il direttivo e tutti i soci che mantengono la tradizione ereditata, spiega Anna Battaglini della fondazione Teleton, donando alla ricerca scientifica un contributo con il cuore, regalando speranza per un futuro migliore a chi è in cerca di risposte. La scuola si avvicina e il degrado rischia di dare il benvenuto agli alunni di un asilo. Dal quartiere Faro arriva una segnalazione sullo stato di un'area recintata proprio all'incrocio tra Viale Nenni e Via Galilei. La zona presenta vegetazione spontanea e materiale che risulta apparentemente abbandonato, ma ad allarmare la circostanza che essa confina con il giardino dell'asilo nido. Secondo i residenti urge un intervento di bonifica. Come sempre giriamo la segnalazione agli organi competenti. E termina qui la prima parte del nostro telegiornale, ma restate con noi perché a breve torneremo per le notizie sportive.